Oggi una partita dura contro la prima in classifica La prima in classifica, sì sì, durissima Poi ci mancano anche degli uomini Siamo uno che non gioca mai, che sarebbe Flavio Anche se abbiamo fiducia di lui Le corse vanno a male perché queste qua sono fortissime Abbiamo pareggiato la staffetta, non so come però l'abbiamo pareggiata Abbiamo perso il progressivo, abbiamo perso due tappetti Che secondo me uno si poteva vincere Negre proprio diciamo in allenamento fa bene E poi diciamo che in partita fa male Cioè fa male, gli altri fanno meglio Rimangano questi giochi tradizionali che comunque state andando abbastanza benino Sì, i tradizionali noi giocando in casa dovremmo Non dico vincerli tutti ma almeno uno o due dovremmo vincere Adesso tenteremo di pareggiare, almeno pareggiare Per noi se pareggiamo in casa contro la prima in classifica andrebbe benissimo Oltretutto venite da due vittorie importanti che vi hanno rilanciato un po' in questo campionato Sì, sì, abbiamo vinto una volta fuori casa, una volta in casa E diciamo che gli uomini anche sono un pochettino pompati Come si dice in gergo Adesso la cosa più importante è quella di oggi Poi vediamo la settimana che viene Andremo a giocare alla BG che è la seconda Sarà come qua perché è fuori casa Mancandoci un uomo in corsa Anche se le corse deviano sempre date perse Però diciamo che io spero bene, spero Poi vedremo Il vostro obiettivo cos'è? Raggiungere i play-off Sì, raggiungere i play-off Però se non ce la facciamo anche basta salvarci Siamo contenti Grazie